Il gioco tradizionale montoriese conquista sempre più appassionati anche fuori dalla provincia terramana. Lo Stu solidale quest'anno salva la vita con l'acquisto di defibrillatori. La maratona dello Stu raddoppia con la finalissima del torneo il 5 gennaio. Come tutti gli anni torna lo Stu che va a rappresentare quella che è la montoresità in qualche modo. Infatti lo Stu è soprattutto quello, c'è un modo di essere più che altro. Grazie all'associazione Il Collesso Leone noi riusciamo a riproporre quella che è la tradizione che è una tradizione che rappresenta come ho detto la montoresità ma che sicuramente può essere usata anche come volano per farci conoscere. Un'unicità che ci rende quindi particolari e che può attirare persone nella nostra cittadina. Il programma ricalca quello degli anni passati, abbiamo iniziato il 6 di dicembre, concluderemo il 5 di gennaio con le semifinali e la finalissima che si svolgeranno a Montorrio presso la Sala degli Zoccolanti. Novità grosse rispetto agli anni passati è che quest'anno ci siamo allargati sempre di più perché come siti satelliti siamo arrivati ad Avezzano, oltre ad aver toccato Piccianello di Pescara e anche alla costa con Giulianova. Particolarità da menzionare è che quest'anno abbiamo trovato nella biblioteca provinciale di Teramo grazie al maestro Battista De Flavis un libricino che parla dello Stu e il libricino è datato 1717 quindi già dal 1700 questo gioco era molto ben conosciuto e siamo orgogliosi di aver mantenuto questa tradizione nell'area montorriese. E lo Stu quest'anno diventa solidale? Quest'anno lo Stu diventa solidale perché come ogni anno noi ci rivolgiamo un po' alla cittadinanza cercando di fare qualcosa di positivo e con le puntate acquistiamo quest'anno tre defibrillatori semi-automatici che saranno donati all'amministrazione comunale che li collocherà in tre punti particolari del Paese.